Scendono in campo i call center e contact center. Nella complessa partita delle vaccinazioni in Italia le aziende associate ad Asso Contact, che è una delle più rappresentative associazioni del settore, mettono a disposizione del generale Fiviolo e della sua task force sedi operatori gratuitamente per realizzare 16 centri vaccinali in sei regioni capaci di somministrare tantissimi vaccini al giorno per mettere al sicuro 20.000 persone tra dipendenti e familiari prima di estendere la somministrazione a tutta la popolazione locale. Sul territorio sia Tecnocol che 3G aprono a questa sfida mettendo a disposizione le loro strutture. Davide Natale, vicepresidente di Asso Contact, spiega la loro idea e la loro grande capacità di infrastrutture, tecnologie e operatori lanciata dal presidente Lelio Borghese. Riteniamo i nostri centri assolutamente adeguati e idoni a supportare questa campagna vaccinale. Oltre a mettere a disposizione le nostre infrastrutture metteremo a disposizione il nostro personale amministrativo, i medici competenti, i nostri tecnici e le nostre soluzioni tecnologiche. Riteniamo di poter gestire circa mille vaccinazioni al giorno e la popolazione che riteniamo possa essere raggiunta da questo servizio è di circa 20.000 persone fra collaboratori e conviventi familiari. Chiaramente il nostro impegno è anche quello di vaccinare le persone residenti nella possibilità dei nostri centri operativi. Abbiamo candidato anche la 3G presso la sede di Sulmona e di Chiedi, quindi copriamo il territorio abruzzese in modo importante. All'Aquila la Tecnocall, all'attivo la sede di Monticchio ma anche le strutture ad Avezzano e Pescara, Asso Contact potrebbe supportare peraltro le operazioni di contact tracing, le moderne tecnologie, il personale, le infrastrutture, elementi che possono rivelarsi strategici in questa fase. Noi abbiamo tre strutture sul territorio regionale che sono l'Aquila, d'Avezzano e Pescara, le abbiamo messe a disposizione delle autorità sanitarie affinché si possano utilizzare come centri vaccinali per i dipendenti che le abitano, nel rispetto di quelle che sono le priorità della vaccinazione pubblica nazionale. Oltre a fare il contact tracing siamo disponibili attraverso le nostre strutture a gestire la pianificazione della vaccinazione, la prenotazione, la tornazione e soprattutto, cosa da non sottovalutare, la regolarità dei richiami. Lo possiamo fare grazie al fatto che Tecnogol è un'azienda abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico e che fa di queste tecnologie il proprio pane quotidiano come disponibilità.